Una macchina che non solo ricicla nel modo corretto bottiglie, lattine e flaconi di detersivo, ma che ti aiuta anche a risparmiare. Tu inserisci i resi e lei ti rende buoni spesa, utilizzabili in alcuni negozi e supermercati convenzionati della zona. È la nuova macchina che hanno installato all'Arcis a Lazzaro di Via Bellaria, ma che è già operativa davanti alle Clerc di Via Larga e in vari punti Conad della città. Insomma uno stimolo in più per incentivare tutti i bolognesi a smaltire in modo consapevole e perché no anche risparmioso. Abbiamo lasciato spazio volentieri a questa cosa. Funziona che qui si possono conferire la plastica, l'alluminio, i tappi della plastica, i quali poi rientrano in un circuito di riciclo nella lavorazione. Naturalmente chi ha questo fastidio, chi si prende questo fastidio di conferire qui la plastica e l'alluminio, successivamente, dopo aver fatto questa operazione, riesce a ricevere dei buoni, dei bonus, dei negozi convenzionati. Gli anziani pensionati la utilizzano? Io penso proprio di sì perché gli anziani particolarmente sono quelli più sensibili ai risparmi e a tutte le occasioni per poter risparmiare. E comunque direi che è anche un ottimo viatico per una cultura di rispetto dell'ambiente.